Tenere il passo della Re Canatese, ieri vittoriosa contro il Vasto Girardi e restare aggrappato al Trastevere. Oggi di scena contro il Porto d'Ascoli, in casa atletico. Terme e fiugi sono chiare le intenzioni. Al capo, ai Prati, arriva il Neretto, penultimo Mareduce, dalla vittoria contro l'Aurora. Alto Casertano è la decima giornata del campionato di Serie D Girone F. Un saluto da Mattia Monti, è tutto pronto, le squadre entrano in campo. Si attende solo il fischio del direttore di gara, sguardo al cronometro, avvia il match del capo ai Prati. Strattonato il numero 4, palla dentro, c'è già un'occasione per l'atletico Terme e fiugi, ma il controllo è difettoso di Papaserio. Papaserio che alza la testa, torna ancora dal capitano, che è sempre largo a destra. Il cross è buono per Falle, che prende il terzo tempo. Ahmed Meiri che va con le mani ancora da Fikara, questa volta un po' in difficoltà, riesce anche a recuperarla. Serie di rimpalli, c'è un tocco con il braccio e anche un giallo per Meloni, se non vado errato. Parte Falco, pallone che scavalca la barriera, ma la risposta di Ahmed Meiri è pronta. Con la forza fisica, anche con una discreta tecnica. Poi è difficile la gestione del pallone, in questo caso per il fiugi. Arriva anche un giallo e un rosso, incredibile. Decisione del direttore di gara, che prende un po' la sprovvista, anche i calciatori dell'Atletico Terme e Fiugi. Giallo, doppio giallo per Samuele Meloni, che deve lasciare il campo. Recupera Fikara, che va a calciare, colpisce Fall sulla schiena, posizione regolare. Fall! Forse con un po' di fortuna, ma segna sempre Fall. 1-0, il capo è Prati, la sblocca al 9. Azione confusissima, al limite dell'area di rigore del Nereto. Da Papaserio, poi Gallinari, non riesce a controllare il pallone. Forgione superato da Sant'Angelo, che va dentro con l'esterno. Posizione regolare di Ristoschi, che controlla col destro e calcia. Palla alta, un paio di metri, oltre la traversa. Un Papaserio che riesce a recuperare il pallone, allargarlo a destra per Rocchi. Può andare al cross, morbidissimo per Fall, che non la tocca. Al secondo pallo, Gallinari, calcia, ribattuta. Si avventa sul pallone Fikara, che a porta vuota non può che segnare. Il gol del 2-0 al tramonto del primo tempo. 0-2 al capo è Prati, ha segnato Alessandro Fikara. Della formazione di Fabrizio Romondini, che ricordiamo è in 10 uomini per l'espulsione a Samuele Meloni per doppio giallo. Maidani, insegue il pallone, lo tiene in campo. La mette dentro col mancino, diventa quasi un tiro in porta! Se la lascia sfuggire a Medmeiri, accorcia subito le distanze. Il Nereto con questo erroraccio dell'estremo difensore dell'Atletico Termefiugi sul cross di Maidani. 2-1 del Nereto si è un attimo appiattita. Mentre adesso viene messo giù un calciatore dell'Atletico Termefiugi e arriva il doppio giallo anche per Scatozzo. Parita numerica, ristabilita, rosso per Scatozzo. Tocco per Maidani. Maidani pensa al cross con il destro, è una finta, manda al bar Flores, è una conclusione poi. Ma riesce anche a lanciare benissimo per Maidani. 1-1 con Dinezza, Maidani pensa al cross con il mancino che parte sul secondo palo. Ristoschi di testa! Brivido sulla schiena di Meiri, palla a lato. Va dentro o quantomeno ci prova Rizzitelli. Allora prende il largo sulla destra e un 2-1 Rizzitelli, non lo prende nessuno. Al centro c'è Flores, Rizzitelli in era di rigore. Rizzitelli dentro, un po' pigro il pallone. Chiuso da Tagliani. Forse l'ultima opportunità per il Nereto. Non è così, arriva il triplice. Fischioni, Cristian Robilotta, cala il sipario. Al capo ai prati, ha vinto l'Atletico Termefiugi contro il Nereto. Con il punteggio di 2-1.